Una partita che più peggio di così non si poteva fare, è la pura verità, non dobbiamo nascondersi dietro a cose non vere, quindi ne siamo consapevoli e sappiamo che dobbiamo fin da subito far vedere che abbiamo imparato la lezione, nel senso che dobbiamo tenere questa partita come una partita da non fare mai più, deve essere cancellata, nel senso che non dobbiamo ritenerci degli scarsi come sia stata domenica, però dobbiamo tenercela magari in un cassetto da campanello d'allarme, da una partita da non fare mai più. Le partite effettivamente contro Catanzaro, contro Avellino sì e no, perché comunque siamo rimasti in dieci e non abbiamo demeritato in maniera così clamorosa come con Catanzaro e Monopoli, Catanzaro e Monopoli l'abbiamo perso nettamente, questo è sicuro, Avellino non la metterei insieme a Catanzaro e Monopoli. Però sì, in questo momento noi, cioè, si è parlato molto fino adesso, si è detto una squadra forte, una squadra che si deve conoscere, sono state dette tante cose che probabilmente hanno incosciamente dato sempre degli alibi, perché comunque la prima non ci conoscevamo, la seconda siamo rimasti in dieci, la terza abbiamo vinto, quindi abbiamo detto da lì si parte, la quarta abbiamo perso per un errore individuale mio, nel senso la quinta l'abbiamo pareggiata, errore arbitrale, abbiamo sempre, non noi, dico in generale, si è parlato e si è sempre trovato un motivo che incosciamente ha sempre, secondo me, ha sempre dato un minimo di alibi. Domenica è stata una partita che secondo me è stato proprio uno schiaffo che ha dato sia noi ma anche penso ai tifosi che hanno visto la partita, la città eccetera eccetera, quindi sono convinto che questa partita faccia scattare comunque dentro di noi una scintilla, un qualcosa che magari può farci cambiare un po' questo inizio che effettivamente a livello di punte a livello di, non possiamo dire che sia positivo. Gli alibi non dovrebbero mai esserci, però io dicevo, si è sempre sentito, non tante scuse, però tante cose che magari incosciamente possono dare degli alibi, ecco questo sto dicendo. E secondo me è ora il momento di toglierci tutte queste cose e di far vedere che siamo una squadra, come si diceva, una squadra forte ma dobbiamo dimostrarlo, dobbiamo partita dopo partita, adesso pensare alla partita di sabato con Rieti e poi man mano pensare alle partite dopo, però dare dimostrazione in campo, parlare adesso in questo momento è inutile, nel senso si possono dire tante cose, però poi bisogna dimostrarlo in campo alla domenica, al sabato, giornata per giornata.